8 le associazioni che dicono stop ai lavori sul quarto lotto della Teramo Mare, tra cui la stazione ornitologica abruzzese Onlus e Italia Nostra delle sezioni riunite da Abruzzo. ANAS destina 173 milioni di euro agli interventi sulla strada statale 80, che secondo le associazioni sarebbero insostenibili per via del rischio alluvione, consumo di suolo ad alto impatto paesaggistico considerato anche l'attuale stato ecologico del fiume Tordino, presentando così possibili soluzioni da adottare per evitare i lavori del quarto lotto e migliorare la viabilità. Sono nella piana alluvionale del fiume Tordino, alle mie spalle dove ci sono quegli alberi scorre il fiume e questa è una zona di naturale esondazione del fiume Tordino in caso di piena. Ebbene, ANAS proprio qui vuole far passare una nuova strada, il prolungamento della Teramo Mare, il quarto lotto, per un importo di 173 milioni di euro. Quasi tutta questa strada sarebbe realizzata in area di esondazione ufficiale, cioè riconosciuta ufficialmente dalla regione Abruzzo, in area di rischio esondazione, in alcuni punti addirittura a massimo livello di rischio. Qui è un suolo fertile, molto importante per l'agricoltura, riteniamo che sia assolutamente inaccettabile che nel 2023, dopo i danni che vediamo in tante parti d'Italia, fatti tragici, ancora si continuano a progettare opere infrastrutturali nelle zone a massimo rischio del territorio per le alluvioni. Grazie a tutti.